Gioza, il Catania ritrova il clean sheet anche per effetto di una prestazione di reparto da parte della retroguardia eccellente. Prestazione di reparto ma prestazione di squadra eccellente. Secondo me abbiamo concesso veramente il minimo sindacale, una squadra molto molto pericolosa come Francavilla. E quindi possiamo ritenerci soddisfatti, però il merito assolutamente è di tutta la squadra che ci ha dato una grande mano. Si gioca senza tifosi però gli applausi degli addetti ai lavori che osservano dalla tribuna centrale ti sono arrivati in campo a suggellare quelle che sono state alcune chiusure fondamentali immaginiamo. No ma abbiamo fatto un'ottima partita, ripeto oggi non era per niente facile perché affrontavamo una squadra ostica di categoria che ultimamente ha fatto risultati importanti, non ultimo la vittoria di Palermo. Quindi sapevamo fosse difficile come poi si è rivelata la partita però siamo sempre rimasti secondo me soprattutto equilibrati e abbiamo giocato con grande pazienza perché comunque in questo momento ci sentiamo una squadra forte e dobbiamo avere la bravura di rimanere lucidi in tutte le situazioni della partita perché sappiamo di poterla poi sbloccare anche al novantesimo. E' una squadra il Catania che attacca sempre e ci prova sempre a condizioni di equilibrio. Si ripeto l'equilibrio secondo me è la componente fondamentale per una squadra che ambisce a un campionato importante. Oggi ci siamo riusciti, ripeto abbiamo avuto diverse situazioni soprattutto nel primo tempo per andare in vantaggio, non siamo stati bravi o fortunati a capitalizzarle. Poi nella ripresa probabilmente siamo stati un po' meno arrembanti però poi l'episodio del rigore sacrosanto comunque ha secondo me determinato risultato giusto e molto molto importante in vista poi di un tour de force che abbiamo iniziato oggi che sarà decisivo. Quando c'è un gruppo coeso, forte e importante come era già quello del Catania prima della sessione di mercato di gennaio il rischio è anche che poi inserendosi altri calciatori qualcosa venga modificato ma in questo senso il gruppo è ancora più forte e vi siete inseriti alla grande? No no ma io voglio ringraziare come ho già fatto in precedenza pubblicamente tutti i ragazzi in uno spogliatoio, noi nuovi ci hanno accolti in una maniera straordinaria, noi ci siamo messi a completa disposizione sapendo di entrare in un contesto forte, importante e quindi con la massima umiltà, con la massima disponibilità. Le tante partite che avremo da qui fino a metà marzo sono la testimonianza che ci sarà spazio per tutti quindi questo deve essere un punto di forza per chi ambisce ripeto a giocare partite di un certo livello. Tu conosci bene il mister, possiamo dire che il Catania che stiamo vedendo è a tutti gli effetti il Catania targato Raffaele? Sì sì beh il Catania è il mister, avete imparato a conoscerlo in questi sette mesi, credo che la sua mano si vede come, probabilmente abbiamo ancora dei margini di miglioramento perché ripeto la squadra è veramente forte, abbiamo anche i giocatori importanti in questo momento fuori, altri che stanno rientrando quindi la condizione non è ottimale complessivamente però c'è grande disponibilità, grande voglia, grande entusiasmo e credo che questo poi chi guardi la nostra partita lo noti. Un'ultima domanda riguarda la tua condizione personale che sembra davvero notevole. No no io sto bene ma mi ero sempre allenato, ho sempre giocato fino all'ultima partita lì a Monopoli quindi le mie condizioni sono buone, ripeto adesso abbiamo davanti a noi un bel tour de force che metterà alla prova la testa e i muscoli di tutti noi però siamo tanti, siamo tutti sullo stesso livello quindi la bravura nostra sarà quella di farci trovare sempre pronti quando saremo chiamati in causa e non ho dubbi su questo perché ripeto ho la fortuna di far parte di uno spogliatore veramente eccezionale.